Per aumentare i due giocatori nell'angolo in alto a destra troviamo il giocatore finlandese Zugellian Ottimo giocatore Zerg, Grandmaster, penso il principale rivale di Raynor in questo girone di Sicuramente un giocatore molto solido, almeno da quanto mi ricordo, però nei precedenti Raynor è leggermente avvantaggiato Comunque il suo avversario di oggi, stanno al secondo game, il primo l'ha vinto appunto Zugellian E' Yao Mato che spawna invece nell'angolo in basso a sinistra, giocatore Protoss, anch'esso Master, credo che non sia mai stato GM Ma penso che possa dare filo da torcer su questa mappa soprattutto al giocatore Zerg che inizia subito con una seconda base Invece da quest'altra parte tende a wallarsi giustamente il Protoss con un bel portale su questa rampa Eh sì, direi che per il momento nessuno dei due vedo la pull subito, quindi un actually first subito pull e gas Tutto a 17 per Zugellian, mentre Yaois, qui Yao Mato, va di One Gate Fast Expo, una delle opening più safe per i Protoss in Legacy of the Void Vedremo cosa vorrà fare subito dopo come tecnologia, come ramo di tech il giocatore Protoss Se vorrà andare a seguire il meta normale appunto o switcher ad air come vedo fare abbastanza spesso un Oracle subito dopo il primo Nexus d'espansione Un Stargate subito Oracle Per l'appunto intanto vediamo lo scout da parte del Protoss con la probe in avanti Vediamo, non riuscirà a scautare molto sinceramente Con questa probe vede una seconda base, vede un gas Potrebbe aver paura di quei tre lavoratori Ma sinceramente mi sembra che lo Zerg stia andando di macro E dovrebbe quantomeno star tranquillo Yao Mato Questo secondo game Allora vediamo perché invece dall'altra parte il Protoss ha preso una seconda base Ancora non è operativa, in realtà ha preso due gas e probabilmente vuole far qualcosa a due panni Qualche tipo di Olin strano chissà Magari un Blinkstalker Olin, secondo me su questa mappa è fortissimo Non so se condividi il mio pensiero Sì, 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 perché sulla seconda comunque ci sono molte possibilità di entrata E quindi secondo me sì, ci sarebbero gli estremi per il Blinkstalker Olin Anche se ormai è una build che non si ve dopo tutte le partite in cui si è vista utilizzata In Earth of the Swarm e in Legacy of the Void è stata molto meno utilizzata Invece ha creato due adepte sta andando per Appunto la fabbrica robotica più altri due gate Tra l'altro nascosti Ma che verranno incredibilmente scautati da Zugelian Che sfortuna Yao Mato Veramente era andato a piazzarli proprio nell'angolino più remoto della sua base Ma paradossalmente questo sorvegliante di Zugelian è stato providenziale A questo punto credo che lo abbia tra l'altro anche visto Sì, il giocatore Protoss Non c'era un Proxy Bailon Quindi semplicemente ha rinunciato a fare cose offensive Il giocatore Protoss Stanno arrivando dei Ling in attacco Non credo, vorranno fare molto attenzione Vengono rinchiusi in due ottimi forcefield Buona la reattività del giocatore Protoss In questo caso, ma anche dello Zerg Che comunque ha salvato metà le proprie unità Sbaglio, questi sorveglianti sono più veloci del solito, Paolo No, mi sembrano... Ah sì, ha finito il... Eh, sì, esatto Sì, 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 ma non del solito C'è l'upgrade per aumentare la velocità dei sorveglianti Bene Sono rimasto un po' indietro rispetto agli aggiornamenti del gioco Perfetto Ok, intanto vediamo questi Ling all'attacco Rimangono fuori dalla base Semplicemente per scautare eventualmente una probe Che insomma va a posizionare un'altra base Prova a salire sulla rampa Dice vabbè, ho visto la partita precedente di Tropic Vediamo se questo mi lascia entrare Invece... Riesce a passare, scauta una forge Insomma, non un grandissimo scout C'è invece un prisma dimensionale in arrivo per il giocatore Protoss Dopo il primo immortale Vedremo se un... Vuole fare un push Un push gigantesco Sì, perché forse non l'ha visto Sicuramente non ha visto il... La corona delle blatte del giocatore Zerg Non credo almeno l'abbia vista il buon troppo Prende terza intanto Infatti no Non so se Zuge Liang riuscirà a difendersi da questo push Perché stanno arrivando parecchie unità Droppa sul prisma dimensionale il proprio immortale Tra l'altro molto fortunato questo prisma Che non viene scautato da quel sorvegliante posto al centro mappa Che però riesce a vedere tutte le unità avversarie in attacco Inizia a spammare imparatori Oh mio dio Tira giù anche l'immortal che viene salvato Ci sono però dei laceratori Non penso si possa sfondare da lì Paolo Infatti sta subito rientrando il Protoss Perché non credo che abbia possibilità di... Con i laceratori di fare alcunché Il prisma dimensionale verrebbe praticamente Shottato subito dall'attacco aereo dei laceratori E niente, quindi si rientra Il Protoss rientra in base Prende la sua seconda Ancora il prisma dimensionale all'attacco Con questo povero immortale al suo interno Non ha pace questo prisma Deve andarsene e continuare a girare per la mappa Il problema è che i sorveglianti di Zugelling Sono posizionati veramente molto molto bene E in più stanno arrivando le prime mutalische Perché prima abbiamo visto un pinnacolo posizionato da Zugelling Paolo, secondo me qui Zugelling è in netto vantaggio Anche solo psicologico E non è poco E sì, quanto meno ha distratto un attacco Che secondo me il Protoss Con il quale il Protoss voleva fare un po' di danni Invece non ha fatto niente Perché rischiava di perdere praticamente tutto E in questo momento è lo Zerg che va al contropush Con i suoi Ling I laceratori e le mutalische appena uscite dai bozzoli Zerg Vedremo come se raccaverà È stato tirato giù il prisma O no? Sì, sì, questo è un altro che è stato prodotto Da Zugelling Da quelle mutalische che erano andate a bordo mappa Appunto a cecchinarlo Vediamo che Zugelling ha preso una quarta base Ottima la macro per lui Ma attenzione perché il Protoss a livello di macro Non è messo tanto male Perché a tre basi uguali allo Zerg Sta producendo molte unità Il problema saranno quelle mutalische E come gestire quelle muta Perché se le muta riusciranno a far danni Allora Zugelling è netto vantaggio Ma se le muta verranno bloccate dalle unità del Protoss Probabilmente qui staremo a parlare in un'altra partita Con etico diverso Intanto visto il movimento in base dello Zerg Ma non c'è nulla Intanto secondo prisma dimensionale intercettato E subito distrutto dalle muta Ottimo il map contro dello Zerg Sta tenendo praticamente in scacco Il proprio avversario con i sorveglianti ben piazzati E soprattutto queste mutalische Che ora entrano in base e cercano di fare i danni Non ci sono, non c'erano Almeno fino a pochi secondi fa Molti persecutori li ha warpati appena in tempo Ma attenzione Rambai di Ling sulla seconda espansione Per cercare l'assenza dei persecutori Ma subito vede le sentinelle Decide di retrocedere E Zugheliang che prende posizione Verso il centro mappa Con anche l'assenza Attenzione Attenzione tutte quante le lune li ha scoperte Incredibile Non ha l'antier In questa parte della mappa Perde tutte quante le sentri Brutta posizione Pessima Pessima Zugheliang Veramente Si è trovato scoperto Sta attaccando intanto Dall'altra parte Zugheliang Guardate Sta attendendo il momento giusto Per punire il proprio avversario Il giocatore finlandese Zerg Che Questo caso Deve solamente Solamente Avere sangue freddo E aspettare il momento giusto Vediamo però Che perde qualche Laceratore Laceratore Gratuitamente Non ho capito dove aveva mandato Queste mutalische Probabilmente c'era stato Un altro prisma Non pare Di averlo visto Sulla mappa Ad ogni modo Stanno arrivando Tutte quante le unità Dello Zerg Però Se posso Dare un consiglio Da profano Al giocatore Finlandese Attenzione Vediamo l'ingaggio però Vediamo l'ingaggio Attacca pesantemente Lo Zerg Riesce ad oltare Sulla rampa Ecco Secondo me Questo è stato Un bruttissimo ingaggio Quello che stavo per dire È che Dovrebbe attaccare Da più fronti Perché I stalker Diciamo Non sono Troppo Utili Contro Contro i Ding E quindi Potrebbero essere Facilmente Sorroundati Non capisco Perché stia Clompando Tutte quante le unità E aspettando Di attaccare Frontalmente È ovvio Che c'è un blink All'indietro Sulla rampa E riesce ad Holdare Questa posizione Non è troppo difficile Per il Protoss Che sta salendo Anche di supply Più sale il supply Del Protoss Più quello Dello Zerg È in pericolo Perché logicamente Le unità Attenzione In move Le unità Di Di Sugerian Che però Attacca pesantemente Ancora un blink All'indietro Questi Immortal Fanno danni Sui League In prima fila Ci sono tantissimi Stalker Secondo me Questa è la regge Secondo me Questa è qui La regge Vediamo Ci sono Arrivano gli acconti Splash damage Degli acconti A seguire Sul retro E subito Le muta sono costette A ripiegare Ha perso Tantissimo Lo Zerg Pure il Protoss Ma Lo Zerg Psicologicamente Ha perso Questo Questo scontro E ora ci saranno Gli altri templari Che saranno Probabilmente La prossima Unità Che andrà a morfarsi Fatina Quattro Arconti Per il Protoss E ci sarà Un contropush Temibile E vediamo Subito Zugheriang Va a cercare Di negare La terza espansione Con le mutalischie Subito Cecchina I pidoni E si allontana Perché arriva nei persecutori Qui questo blink È stato un po' Velleitario Credo che sia stato Anche un misclick Da parte Del Giorgio dei Protoss Che però è sotto I 70 Di supply Qui c'è stato qualcosa Che Ha sbagliato Malesemente Il Protoss Probabilmente Nella macro Presumo Perché Si può stare Sotto di 50 60 supply A questo Minuto della partita Perdi tra l'altro Tutte quante le Probe Da queste mutalischie Non è facile Certo gestire Le mutalischie Perde pure il nucleo Della madre In situazione disperata Il giocatore Protoss Tenta con quei Con quelle unità Di far danni Anzi no Decide Si arrende Si arrende Decide di difendere La La Quarta base Lascia le muta Intrepide Nella base Principale Del Protoss Che andranno A distruggere Tutte le strutture Mentre I persecutori Vanno a eliminare Le ultime blatte In campo Salva gli ultimi Salva due arconti Che erano Preoccupati E va in base trade Il Protoss Molto temerario Decide di Buttare tutto Sul base trade Rientra appena Vede l'arrivo Delle muta No Ci ripensa Sta temporeggiando Se riesce a distruggere Quelle muta Probabilmente Ha una speranza Ma non credo Giugheriang Cerca Lo scontro letto Contro il Blink Stalker Sconsigliatissimo Perda alcune muta Ma lascia Comunque In campo Con gli arconti E altre mutalische Che stanno andando Appunto Verso il base trade Lasciando Soltanto un drappello Di persecutori Va a aspettare La sua armata Che non è mai Un bene Per il Protoss Mentre lo Zerg Ormai ha Campo libero Sulle Basi Nexus Addirittura Non sa nemmeno Cosa attaccare Decide di attaccare Un po' tutti Ti vorrei far notare La quantità industriale Di impalatori Messi giù Da Zugellian Specie di linea Difensiva Impressionante Posizionata Dal giocatore Zerg Da lì Non si passa O quantomeno Quello è un avvertimento Diciamo che Non è particolarmente utile Contro i persecutori Perché gli immortali Hanno il bonus Contro appunto Le strutture corazzate Come l'impralatore Intanto ancora Uno scontro Su la terza espansione Persecutori Blinkstalker A difendere le paci minerarie Le muta cercano Di fare più danni possibili Ma è uno scontro Che le muta Non possono Vediamo dall'altra parte Però ancora l'ingaggio frontale Ci sono Blatte E i Tralisch Che attaccano In modo Che arriva il GG Da parte di Zugellian Prepotente Di Jaois Vince il secondo game E si porta in vantaggio Con un 2-0 Per il team Meness Stiamo parlando di Zugellian Bravissimo Bravissimo Veramente Ha provato in tutti i modi Il Protoss A salvarsi Da quella Situazione Situazione Ehm Ehm Grazie a tutti i modi